Ragazzi, cosa sto vedendo? Oh mio Dio, i capelli da pazzo. Ragazzi, cosa sto vedendo? Scusate, perché stavo letteralmente lavorando, fino a qualche secondo fa, poi ho visto questa novità, ragazzi, cosa cazzo sta succedendo? Vediamo insieme, ragazzi, Monster Hunter Now, una collaborazione tra Niantic e Capcom. Non ho idea di come sarà questa cosa, mi sono comunque segnato per la beta, però è una closet beta, ci saranno solo 10.000 partecipanti, quindi dovrò sculare. Io spero potrò partecipare, sembra un mistero, chissà come cazzo l'avranno strutturato sta cosa. Sarà sicuramente qualcosa che riguarderà la realtà aumentata, quindi andare in giro per il mondo in determinate location. Ragazzi, questa cosa qui ha il potenziale di essere tipo una figata atomica, immaginate tipo fare le reunion per cacciare i mostri, eccetera. Io sono personalmente un fan di Pokemon Go, ho giocato un'infinità di anni a Pogo, anche recentemente. Sicuramente mi diverte molto andare in giro con i gruppi, eccetera, a fare riunioni di questo genere, eccetera, eccetera. Ragazzi, questa cosa sembra assolutamente incredibile. But anyway, se volete provare a entrare anche voi nella closet beta, c'è il loro sito, ve lo lascio in descrizione. E ho i capi da pazzo, sto facendo questa cosa letteralmente in modo estremamente improvvisato. E non so che dire, comunque volevo darvi subito la mia, tipo immediatamente, ragazzi. E niente, tutto qua. Oltretutto il gioco a quanto può uscire quest'anno. Questo sarà uno di due giochi, perché in realtà l'altro gioco che hanno annunciato, è una... lo fanno con Tencent, quindi questo non è manco, come dire, potrebbe darsi che quest'anno uscirà un secondo gioco mobile di Capcom. Vedremo, vedremo comunque, non lo sappiamo. E... boh, ragazzi, sconvolto. Un estremamente, qualcosa di incredibile. Vedremo, vedremo come va, vedremo come va, vedremo cos'è. Non ci hanno detto niente, letteralmente, quindi... Niente, ragazzi, bello.